Grande successo il 16 giugno 2016 a Palazzo Brancaccio a Roma per il Summer Night Party, la festa dell'estate dedicata alle eccellenze e al Made in Italy nel settore wedding e grandi eventi. Un party al quale hanno partecipato oltre mille invitati che ha visto protagoniste ben nove aziende di grande esperienza e talento. Uno dei fantastici nove è Castello Tricerchi di Tommaso Squarcia. Castello Tricerchi è una realtà storica, medievale, costruita dalla mia famiglia nel 1441 che oggi ospita un'azienda di 400 ettari su Montalcino e che si avvale anno per anno di lavorare cercando di accrescere la qualità dei propri vini. In particolar modo siamo molto felici di essere qui questa sera per presentare sì la nostra winery come allo stesso tempo il castello come location matrimoniale in quanto stiamo parallelamente noi della famiglia per un progetto che volgerà, che mirerà alla creazione quindi di una location matrimoniale nel castello e quindi a un ampliamento di quella che già di per sé è la winery su Montalcino con produzione ovviamente di Brunello. Allora questa sera ho portato praticamente tutti i nostri prodotti, sono quattro al momento, c'è la Nena che è un vermentino Sauvignon prodotto in Maremma, c'è Giulio che è un Sangiovese di Montalcino e poi ci sono i due prodotti principali che sono il Rosso di Montalcino 2014 annata corrente e il Brunello di Montalcino 2011. Quattro prodotti che hanno un'ottima linea di conduzione ovviamente a parte il bianco che proviene da un altro territorio, i tre Sangiovesi hanno un grande collegamento, due dei quali sono della stessa annata e il Brunello rappresenta quindi la massima espressione diciamo del Sangiovese su Montalcino. Il castello di ricerchi è tradizione, passione e sincerità.